L'operativa dell'AMA da lunedì al venerdì i 13 operatori assistono i cittadini che segnalano problemi di pulizia stradale, di raccolta dei rifiuti e di servizi. Al numero verde 8867035 è possibile iniziare discariche abusive e string abbandonati. E' qua la sua lana. Braga Vila! Da gennaio a maggio la lana verde ha risposto a più di 34.000 segnalazioni tra telefonate dirette di utenti e posta elettronica arrivata attraverso il sito web dell'AMA. Non solo, per segnalare il calzonetti pieni è possibile inviare un sms al servizio AMA 342-411-5588. I temi dei rifiuti e del rispetto dell'ambiente sono stati anche al centro del concorso dell'AMA dedicato ai più piccoli, allo stabilimento di Tor Pagnotta, il presidente di AMA Marco Daniele Crarch e l'assessore alle politiche educative del Comune di Roma, Laura Marsilio, hanno premiato i ragazzi finalisti del quiz AMA. Workshop organizzato dalla RAI sulla qualità del servizio pubblico e sulle nuove tecnologie. Roberta Mendola. Pensando in digitale, la RAI affronta la sfida dell'innovazione tecnologica classificandosi la TV più efficiente e di gran lungo.